Ciao a tutti amici, oggi voglio parlarvi di boxe e di lotta contro il cancro. Che cosa c'entrano queste due cose insieme? Allora, c'entrano perché domani, domenica 13 marzo, ci sarà una manifestazione presso il bocciodromo Trombetta in corso Lombardia 174 a Torino. Durante questa manifestazione si sfideranno dei pugili e ci sarà un biglietto d'ingresso e l'intero incasso sarà devoluto alla battaglia contro il cancro, in particolare per i bambini in questo momento malati di cancro. Quindi che cosa possiamo fare? Possiamo sicuramente partecipare a tutte queste manifestazioni, in particolare io però vi parlo di questa perché si terrà domani. Quindi partecipiamo a questa manifestazione che vi ricordo è al pomeriggio dalle ore 16 alla sera dalle ore 20 e 30. E poi che altro possiamo fare? Beh, sicuramente infilarci i guantoni e con With a little help from my friends combattere anche noi e dare qualcosa alla lotta contro il cancro. Ok? Ciao!